Caccato, magico, percordi, ok, oh oh, mi sento un pochino più a mio agio, non provate? Bene, allora, vi è stato dato un bigliettino, ce l'avete tutti quanti questo bigliettino? Me lo fate vedere, per favore, fate così, ok, bene, ora fermo tutti, andiamo a vedere 6 bigliettine, giusto? Il primo numero è il 3, giusto? Ok, 4, 0, 7, 6, poi c'è un 2, 2, 8, 5, 5, e allora, signori e signori, siete al posto giusto Tenete questo bigliettino nella vostra saccocina, che vi verrà chiesto quando merrete qui sul palco da me, appena E quindi iniziamo fra proprio lo spettacolo di magia fra 10, 9, 8, 7, 6, 1, 1, 1, 1. Buonissime ricette state per assistere a uno spettacolo unico in Italia dove diventino le magie che accompagneranno con tutta la visione. Ecco a voi, Magic Insane.